Ci fai l'imitazione di Ramazzotti? Prego Sì, è in altra parte ragazzi è il primo La telecamera è quella, quella, prego Quella, quella, quella in centro Prego Aspetta, magari non sono bravo a fare l'imitazione Dai, più bella cosa Sono mai nei situazioni Quei momenti fra di noi Già, come vedi Sto pensando a te Come se questo tempo Non fosse passato mai Dove siamo stati Cosa siamo poi Confirati di cuore solo Che ognuno sa Dietro gli steccati Degli orgogli suoi Sto pensando a te Sto pensando a noi Sono cose della vita Quando prese un po' così E' già stata una fatica Arrivare fino a qui Già, come vedi Io sto ancora in piedi Perché Sono umani tutti i sogni miei Miei Con le mani io li prenderei Sì, perché Sono umani questi sogni miei 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 Con le mani io li prenderei Sono cose della vita Ma la vita poi dov'è Dov'è, dov'è, dov'è Se da quando è partita Un riservimento è Poi dov'è, poi dov'è Da Come vedi Sto pensando ancora a te E stanotte che passa piano Canto a me Cerco di affrontarla Afferrarla E sopra Sto pensando le curve nel cuore Sbannando un po' Voglio provocarla Anche adesso che E Sto pensando a te Sto pensando a noi Da un po' Già, da un po' Grazie Grazie Grazie